L'anemia è la principale complicanza delle persone che presentano una nefropatia cronica e colpisce circa una persona su cinque con questo problema. L'anemia ha tutta una serie di conseguenze sia di tipo clinico ma anche a livello di danno d'organo quindi è importante conoscere, prevenirla e soprattutto trattarla. Oggi ci sono anche delle novità in arrivo molto interessanti e noi abbiamo parlato con il professor Giuseppe Castellano che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso della presentazione di una campagna di sensibilizzazione su questi temi che prende il nome di Diamo Ossigeno alle Aspirazioni. Professor Castellano, tra i tanti problemi che devono affrontare i pazienti con insufficienza renale cronica in qualunque fase della malattia si trovino c'è quello dell'anemia. Vorrei che ci spiegasse innanzitutto perché si verifica l'anemia e quali sono le sue conseguenze. Assolutamente sì. L'anemia nei nostri pazienti con malattie renale croniche è dovuta a un deficit di produzione dell'eritropoietina. L'eritropoietina è l'ormone fondamentale per la produzione dei globuli rossi che sono i trasportatori dell'ossigeno a tutti i nostri tessuti. Se non abbiamo eritropoietina l'ossigeno non può arrivare ai nostri tessuti. Ecco, il paziente come si può accorgere di questa situazione? Perché poi naturalmente gli esami di laboratorio lo dicono in fretta. Ma dal punto di vista sintomatologico cosa comporta l'anemia? I sintomi possono essere confusi con tante altre patologie. Il paziente può sentirsi molto affaticato, astenico diciamo noi. Quindi una debolezza anche per sforzi lievi. Ma può anche avere sintomi particolari come mancanza di respiro, di spnea o sintomi anche psicologici. Quindi una difficoltà di concentrazione, una situazione di confusione, alcune volte anche delle situazioni di depressione. Tutto questo può essere dovuto a una carenza di ossigeno e quindi all'anemia. Siete, professore, nell'incontro di oggi lei ha spiegato che c'è un grosso problema di dianesi, ovvero di sottodianesi. Spesso i pazienti non sanno di essere in una situazione di anemia proprio perché questi sintomi, come diceva lei, possono essere confusi con tanti altri. E questo si verifica in due casi, nella situazione prima della dialisi oppure anche dopo aver effettuato il trapianto. Ecco, come si può ovviare a questa situazione che naturalmente non è certo positiva? Lo screening per l'insufficienza renale va sempre fatto. Se è un paziente iperteso, se è diabetico, se c'è familiarità per patologie renali, si deve parlare con il medico di famiglia e valutare la funzione renale con degli esami molto semplici sul sangue e sulle urine. Ma anche con il trapianto, spesso la letteratura ci dice che i pazienti trapiantati soffrono di anemia ma non controllano adeguatamente e non trattano questo disturbo che ha delle ripercussioni che abbiamo visto fisiche e psicologiche molto importanti. Ecco, ma al di là delle ripercussioni che lei ci ha detto, non trattare l'anemia può anche, diciamo così, peggiorare la proniosi dei pazienti? Assolutamente sì, è stato dimostrato nel paziente trapiantato che ha un impatto sfavorevole addirittura sulla sopravvivenza dell'organo ma anche del paziente stesso, con patologie cardiovascolari molto serie, per cui l'anemia va trattata. Dobbiamo portare più ossigeno a tutti i nostri tessuti. Professore, come si può contrastare l'anemia? Ovvero, cosa avete fatto fino ad oggi in questi pazienti? Fino ad oggi abbiamo somministrato nei nostri pazienti l'ormone eritropoietina e abbiamo somministrato ferro. Il problema però è che molti nostri pazienti, essendo infiammati, sono resistenti sia alla terapia con eritropoietina o anche alla supplementazione di ferro perché vanno a sequestrare all'interno delle cellule i depositi di ferro e non li rendono utilizzabili. C'è da dire inoltre che l'eritropoietina noi la somministrano sottocute o endovena. Adesso invece c'è una rivoluzione in atto perché nuovi farmaci per bocca possono rendere a questi pazienti resistenti alla terapia con eritropoietina possono dare una nuova possibilità. Allora parliamo di questa nuova classe di farmaci, come agiscono e quali sono i loro effetti poi critici sui pazienti? Questi farmaci innovativi modulano IF che è un fattore fondamentale per attivare o meglio riattivare la sintesi endogena di eritropoietina. L'eritropoietina non la dobbiamo più somministrare endovena o sottocute nei nostri pazienti ma con una compressa si modula IF con una sintesi endogena di eritropoietina migliorata ma anche con un miglior utilizzo del ferro endogeno. Questi pazienti devono prendere molto meno ferro in compresse o in fiale perché possono utilizzare meglio i depositi di ferro all'interno del nostro organismo perché l'infiammazione che caratterizza la malattia del renale cronica va a sequestrare i depositi di ferro. Quindi questo è un altro problema che viene superato con i nuovi farmaci perché il ferro non è più sequestrato nelle cellule ma viene reso disponibile e quindi più sintesi efficace di globuli rossi. Insomma un bel passo in avanti. Assolutamente sì, una rivoluzione anche perché parliamo di un farmaco che si dà per os, sono compresse.